eccoci qua per un nuovo tutorial come sbloccare l'evento speciale con l'autobus che dovrebbe essere se non sbaglio qui che io ovviamente ho già sbloccato e fatto allora per sbloccare questo evento speciale cosa dovete fare andate andate attenzione alla prima gara pronti ai posti via e la fate con l'autobus che adesso ci arrivo e ve la faccio vedere perché è un po è un po complicato e c'ho tante macchine sbloccate e mi è difficile allora dove stai autobus ecco con l'autobus AIG che è una macchina molto molto scarsa però un trucco per vincere quella gara è farla a difficoltà facile in modo che si riesce a vincere abbastanza facilmente una volta vinta quella gara sbloccherete il segreto quindi di base sbloccherete l'evento che sarà un attacco al tema ragazzi noi ci becchiamo alla prossima con un altro tutorial e niente ciao ragazzi alla prossima